Come ti chiami? Stefano Landi. Soprannome? Lando. Professione? Infermiere. Velocità o accelerazione? Accelerazione. Hai già una vettura elettrica? No. Tre pregi della mobilità elettrica? Sostenibilità, ecologia, silenzio. Amo il silenzio. Rombo del motore endotermico o sibilo dell'elettrico? Sibilo dell'elettrico, risposto prima. Primo appuntamento, ci vai con la ID4 o una Porsche? ID4. Se comprassi la ID4 dove ci andresti subito? A fare un bel giro in campagna, strade extraurbane, collinari, chianti. Che nome daresti alla tua ID4? Volchi. Paura di rimanere a secco di elettricità? No. Cosa fai se un gatto nero attraversa la strada mentre guidi una ID4? Rallento per farlo passare e poi continuo. Cosa guiderai tra vent'anni? Auto volanti o auto elettriche? Auto elettriche, mi piace stare con i piedi per terra. Comoda o super comoda? Una figata. Facile da guidare? Molto. Ti sei sentito osservato? Abbastanza, con tutte quelle telecamere intorno. Se ID4 fosse un film, Star Trek o Star Wars? Star Trek. Seria o simpatica? Seria. Ingombrante o agile? Agile, molto agile. Parliamo di accelerazione. Incollato al sedile? Da morire e poi non ho provato la modalità sport. Hai provato la celebre sterzata ID4? È una figata, sembrava di stare col triciclo sotto sterzo. Vorresti portarla a casa? Ma non è che la vorrei, la voglio, la porto a casa. Vuoi farci un altro giro? Sì, quando è mia. Lo vuoi un regalo? La ID4? Sì, è un altro giro. Un piccolo omaggio, grazie di aver partecipato. ID4. 100% SUV. 100% elettrica. Sì, è un piccolo omaggio, grazie di aver guardato.